Tutte le miserie del Gran Sasso le conosciamo, le conoscerà anche lei, le ha conosciute come sindaco dell'Aquila e in questi giorni cialente, riguardo anche alle maestranze, alle bocche da stammare, la colpa è di tempesta perché le assunzioni le ha messe in campo tempesta, le assunzioni a tempo indeterminato, mi ha lasciato una situazione disastrosa insomma la colpa è totalmente sua, le do anche l'occasione per rispondermi ringrazio dell'occasione ma vorrei ricordare al sindaco cialente che io ho smesso di fare il sindaco nel 2007 sono passati quindi 5 anni e mezzo del successo del mondo, tutto quello che è successo, guerre, sconvolgimenti naturali, posizioni politiche maggioranze che cambiano in tutta Europa e in tutto il mondo ma cialente è abituato a continuare a dire le bugie io non posso essere il paravento della incapacità totale, ripeto, sottolineo, incapacità totale di questa amministrazione e in particolare del sindaco cialente perché tempesta cosa aveva fatto più di cialente insomma durante la gestione per gestire il bubone che già era bubone allora, definiamolo così se qualcuno avesse la bontà di andare a vedere quello che diceva tempesta ho sempre sostenuto la tesi che non esiste in Italia un comune che gestisce il turismo aveva un senso nel 1935 quando fu istituita perché bisognava mandare la gente al mare in certa occasione si ricorda le colonie, io non c'ero, era un tipo di politica e il turismo gestito dai comuni perché la gente potesse anche andare a sciare ma a distanza di 70 anni, 80 anni, francamente oggi non regge il turismo deve essere necessariamente privatizzato vorrei ricordare a cialente che l'amministrazione tempesta commissionò un studio a sviluppo Italia consegnato, votato in consiglio comunale credo anche con il suo partito con il vecchio PDS o PD, adesso non ricordo perché cambia lo stagione poi ogni 2-3 mesi e votarlo evidentemente questa privatizzazione delle municipalizzate studiata, corredata chiaramente da fatti corredata da uno studio, da uno che se ne intende non certamente da quelli dello staffi manutengoli di Cialento in questo periodo per quanto riguarda il tema specifico il tema specifico è stato affrontato anche nella prima conferenza del turismo voluta dall'Elio De Santis per fare il punto sull'evocazione bisogna capire qual è la nostra vocazione hanno così, si è tornato a parlare del turismo sacro del turismo religioso poi addirittura del turismo dei camperisti usciva questa cosa da quanti anni se ne parla di queste cose credo da tempo immemorabile ciascuno si assume le responsabilità per quello che ha fatto però Povero Cialente non ce la poteva da solo a fare la privatizzazione in questi anni primo mandato adesso insomma ha avuto tante ruge poi mettiamoci di fatto che c'è stato anche il terremoto oddio che la situazione era difficile ed è tuttora difficile e pacifico ma che diciamo la soluzione di questa situazione è in ritardo credo che sia sotto gli ultimi tutti ora Cialente o incomincia a circondarsi di persone per bene o incomincia a pensare secondo me questi ultimi sei anni non ha affatto pensato non sta a me ricordare i conflitti che egli ha aperto egli ha aperto prima i conflitti con Berlusconi nonostante lo rivedesse ha aperto poi i conflitti con Bertolaso ha aperto poi i conflitti con Chiodi presidente della regione ha aperto poi il conflitto con Barca e con il dottor Mancurti che è il vice di Barca credo che forse se si vedesse allo specchio dovrebbe dirsi ho sbagliato, umilmente mi metto a lavorare creo alcune soluzioni che riguardano l'intera macchina comunale per quanto riguarda anche le municipalizzate e quindi anche il Gran Sasso ora se mi darà ancora a parlare del turismo basterebbe vedere la televisione a me mi piange il cuore quando vedo altri luoghi in guardia dalla televisione dove le stagioni sono stagioni e sia quelli invernali dove si scia sia quelli estivi dove si può camminare e godere la montagna in modo differente francamente mi sembra che ci avessi sia una teolarità la scusa non gliela voglio dare più non è più concepibile tutta la colpa era di Berlusconi a livello nazionale tutta la colpa è di Berlusconi no così no c'è passato pure Chiodi in mezzo va bene fa gogna dal canto suo tornando alla sua gestione vabbè certo il Gran Sasso è una storia posso riendare anche nel secolo quando era presidente Presidente Cioni quando è stato presidente Piero è successo quando è stato presidente Luigi Palmerini capito lei Angelo Cora altra meteora se seguiamo a ragionare in questa cosa mi permetto di fare un ricordo personale quando io sconfissi i centri nel 98 dissi non parlai più maledicenti dissi si parte dall'anno zero e è qualche cosa credo che la gesta la fa se lo volevano comprare il Gran Sasso quando c'era lei ma come no ci furono anche dei contatti si ricorda i Tremonti le tre stazioni sciissime ci furono anche dei contatti ed erano sei poi venne boicottato in sede di centro turistico del Gran Sasso dove anche lì ci stava il solito ricatto dei partiti che ritardano ritardano i partiti di destra e di sinistra ritardano lo sviluppo di questa città ma interessa privatizzarlo veramente perché qualcuno viene del dubbio se interessa a questo punto piazzare una privatizzazione anche le trattative con il Vitalia non è che stanno andando benissimo come si pensava si ricorda Cialendi Cialendi passa sempre le due fasi la prima fase è quella degli amici ora io credo che come le posso dire che il momento di calcio e martello gli esponenti di calcio e martello sia passato credo che oggi si debbano fare le cose con le persone serie con imprenditori per avere un risultato decente lei se oggi fosse sindaco a quale imprenditore si rivolgerebbe oppure quanto meno lei lo mette sul mercato lei lo mette sul mercato chi se lo compra una cosa piena di debiti cioè un folle si ricorda tanti anni fa ma io mi ricordo tutto la politica l'ho fatta in prima persona l'ho fatta in maniera d'attacco